Colpo di scena nella vita di una ex coppia nata a uomini e donne dopo l'annuncio del loro addio. I due hanno deciso di concedersi una seconda possibilità facendo discutere il web. Ecco di chi si tratta. In questi anni sono state molte le coppie nate a uomini e donne e che hanno fatto innamorare il pubblico grazie al racconto della nascita del loro sentimento. Continuato poi sui social come dimostrato dal successo che qui continuano a riscuotere gli ex dello show di Canale 5. Non a caso, nel corso delle ultime settimane per a quadrato a lasciare senza parole i fan del programma troviamo il clamoroso addio tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo, coppia che a oggi torna a essere protagonista dell'attenzione dei media. Coppa di uomini e donne nel ciclone dei media Come abbiamo avuto moto di spiegate precedentemente, le passate settimane sono state segnate dal clamoroso addio tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Rottura era stata annunciata sui social dalla ex cavaliere lasciando senza parole i fan. La ex del trono over quindi, aveva deciso di ufficializzare la fine della relazione con Ursula Bennardo, un annuncio che si rivelato essere poi una doccia fredda anche per i figli della coppia che non conoscevano la entita dei loro problemi. Adesso, per a quadrato, le cose potrebbero essere cambiate per la dama e il cavaliere, tanto da concedersi una nuova possibilità? Ursula Bennardo rompe il silenzio Torna il sereno tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta? La ritrovata serenita tra la coppia non passata di certo inosservata ai loro fan, alcuni dei quali hanno manifestato la loro felicità nel vedere i due ex di uomini e donne di nuovo o vicini. A rompere il silenzio in tal senso ci ha pensato la stessa Ursula Bennardo che, in risposta a una domanda che l'estata posta sui social, ha dichiarato, stiamo provando a sistemare tutto. Quando i problemi sono solo caratteriali con buona volontà si può a quadrato salvare il salvabilea. Grazie a tutti. Grazie a tutti.